Buongiorno da Luca Bosini. Oggi siamo a Soiano in questo contesto da sogno. Vi mostrerò un appartamento di pregio. Prima però ammirate la bellezza di questo parco murato dal custode. Sono tutte parti comuni. Potrai posizionare la tua altraio qui, oppure qui, o anche qui se preferisci a bordo piscina. Potrai rilassarti leggendoti un bel libro e godendo dalla vista sulle montagne. Siamo al primo piano. Eccoci nell'accogliente soggiorno. Da questa parte invece c'è la cucina. Fatta tutta su misura e completa di ogni accessorio, i proprietari hanno deciso di lasciarla. Ed eccoci sul terrazzo, uno spazio in cui pranzare in tutta tranquillità e con una bellissima vista sulle colline. Qui troviamo la cameretta e qui il servizio. Completo di questo splendido lavandino in marmo. La camera padronale per completare la visita alla zona notte. Il terrazzo della camera matrimoniale affaccia direttamente sulla splendida proprietà. E il bagno della camera padronale con la doccia. Per concludere, un appartamento signorile per le tue giornate in tranquillità. Dimenticavo, c'è spazio anche per la tua automobile, non ti preoccupare. Se vi è piaciuto mettetemi like e seguitemi su Facebook. Ciao!